Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi delle porte raso muro, ovvero porte senza stipidi né cornici. A me piacciono molto, sapete perché? Perché creano massima continuità con la parete. Le porte raso muro si minetizzano nello spazio e possono dar vita al mio famoso effetto scatola. Sono porte essenziali, molto discrete e funzionali. Forse è proprio a partire da questa caratteristica che Scrigno ha pensato alla linea Essential, un sistema che consente la scomparsa della porta scorrevole all'interno di una parete in muratura o in cartongesso. Nessuno stipide, cornice o copri profilo. Il telaio è ridotto all'essenziale e gli unici profili adottati sono in alluminio. La resa estetica è data dalla finitura, spesso identica a quella già esistente sulla parete, sia per quanto riguarda il materiale che il colore. Possono essere semplicemente verniciate, oppure laccate, lucide o opache, o magari ricoperte con della carta da parati. Esistono diversi sistemi raso muro che non prevedono necessariamente l'utilizzo delle solite pannellature per porte, ad esempio le scorrevoli con alta in cristallo che garantiscono omogeneità, fluidità e massima pulizia. Insomma, una scelta impeccabile! Grazie! 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 Grazie!